Napoleone Bonaparte, Giuseppe Garibaldi, il conte Camillo Benso di Cavour, Giuseppe Mazzini. Sono questi gli uomini che hanno segnato la storia dell'esorgimento italiano. All'interno del museo è possibile vedere una magnifica collezione di cimeli, divise militari originali, stampe e dipinti, del periodo compreso tra la prima campagna napoleonica 1796 e l'annessione di Roma al Regno d'Italia 1870. Uno dei pezzi forti è senza dubbio la corona di Napoleone. Inoltre è visibile la mano della giustizia, in avorio, posta sul suo bastone di brunzo. La scrivania originale di Giuseppe Mazzini. Emozionante la parte dedicata alla spedizione dei Garibaldini e notevole è la raccolta di stampe con i volti di tutti i 1089 partecipanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.